Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la politica e l'aspra-cherel che si è accesa in consiglio comunale a Gela dopo un post affidato al social network Facebook dall'assessore Eugenio Catania e subito polemica, sentiamo. Consiglio comunale al vetriolo a Palazzo di Città, Gela, sarebbe proprio il caso di dire chi di social ferisce, di social perisce. Pronte ed immediata arriva infatti in aula la risposta secca all'assessore Eugenio Catania che aveva scritto e pubblicato un post su Facebook, giudicato poi da componenti del civico consesso fortemente diffamatorio. Andando al nocciolo della questione, è stata chiesta al sindaco Domenico Messinese dal consigliere comunale Salvatore Gallo supportato dai colleghi Casano, Giudice e Biundo l'immediata rimozione dell'assessore Eugenio Catania. Lo stesso consigliere comunale del Partito Democratico Gallo ha riletto in aula il post contro il quale è stato puntato l'indice e nel quale Catania si lascia andare a pesanti insinuazioni, definendo alcuni consiglieri comunali e alcuni cittadini amici di, ex amici di, ex raccomandati da, ex lecchini di, eccetera eccetera. L'esponente della giunta messinese ha attaccato con il suo post consiglieri che sarebbero capaci di dare solidarietà solo a VIP e sindaci di altre città e inoltre l'amministratore affronta il tema delle competenze additando consiglieri che conseguono la laurea triennale dopo 15 anni e non risparmia commenti nemmeno sugli immobili comunali assegnate ad associazioni che le avrebbero trasformate in BNB. Insomma, accuse di insinuazioni che hanno urtato gran parte dei consiglieri che hanno pronunciato la volontà di presentare una mozione di sfiducia nella prossima seduta di consiglio comunale oltre che l'intenzione di valutare se sussistono gli estremi della querela. Questo boy scout, detto Casano, dovrebbe essere riportato all'ordine dal sindaco che lo ha scelto. Il sindaco Domenico Messinese si è riservato di approfondire la vicenda e dunque non si è pronunciato. Adesso si attende che il primo cittadino sciolga la stessa riserva. Che cosa l'ha indignata particolarmente fino al punto da chiedere al sindaco Domenico Messinese che venga appunto rimosso? Io parto dal presupposto che il rispetto istituzionale deve essere da parte dell'amministrazione nei confronti del Consiglio così come il Consiglio chiaramente deve avere un rispetto istituzionale nei confronti dell'amministrazione. Ieri ho riletto il post in aula perché all'apertura del dibattito dopo che è intervenuto il sindaco e il sindaco ha detto che non conosceva il testo e quindi io l'ho riletto integralmente così come era stato postato. Ma ripeto, nulla di personale nei confronti di nessuno. Non sono stato io come poteva essere anche un altro collega a leggere quello che è stato scritto. Il problema è che quando si ricopre una carica istituzionale che sia quella di consigliere comunale o di amministratore bisogna innanzitutto avere rispetto istituzionale e bisogna dare serenità e tranquillità ai cittadini quindi a chi ci ha votato, a chi ha avuto fiducia in noi. Questo è quello che abbiamo fatto come Consiglio Comunale. Abbiamo chiesto l'inserimento del punto all'ordine del giorno per poterne discutere perché ieri non era la sede idonea. Spero che l'assessore Catania venga in aula intanto a chiedere scusa per le offese mosse nei confronti del Consiglio Comunale. È stato un coro unanime ieri. Tra l'altro il documento che abbiamo presentato alla Presidenza del Consiglio mi pare che porti 27 firme quindi l'intero Consiglio Comunale. Siete pronti alla sfiducia nei confronti dell'assessore? Ma bisogna vedere che cosa ci viene a relazionare in aula perché magari se si scusasse, se riuscisse a dire che ha scritto quello che non pensava noi siamo in aula e ascolteremo quello che lui ci dice e di conseguenza noi agiremo come meglio crediamo. Siamo alla cronaca. Provvedimento di sequestra e confisca di beni nei confronti di Fabio Paolo Fasulo, imprenditore consulente aziendale già coinvolto in diversi procedimenti penali. Il provvedimento ha riguardato beni mobili e immobili dell'interessato comunque rientranti nella sua disponibilità diretta o indiretta in quanto appartenenti a familiari conviventi. In particolare è stato sottoposto a confisca l'intero capitale sociale di due aziende che si occupano di locazione immobiliare. Una con sede a Gela, l'altra con sede a Parma dove nell'ultimo biennio ha spostato il centro dei suoi affari. 27 unità immobiliari adibite ad abitazioni civili e uffici, 6 auto tra cui anche una Maserati e 3 moto. I beni confiscati il cui valore di stima monta complessivamente ad oltre 2.350.000 euro sono stati affidati ad un amministratore giudiziario. Lo ha eseguito l'aliquota di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza già disposto dal Tribunale di Caltanissetta nell'ambito di un procedimento finalizzato all'applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale su richiesta del sostituto procuratore Antonio D'Antona. La richiesta si è basata su accertamenti capillari che hanno consentito di ricostruire coinvolgimenti in illeciti di oltre un decennio di attività di fasulo. In particolare è stata appurata la sproporzione delle ricchezze accumulate rispetto ai redditi dichiarati. A fronte della manifesta pericolosità sociale, il Tribunale di Caltanissetta ha anche applicato al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. Ancora cronaca, dopo accurati controlli, gli agenti del commissariato di Gela, gli ordini del dirigente Francesco Marino hanno scoperto che dentro un tir destinato alla Germania era stata nascosta una motocross da competizione rubata nel Vittoriese il 25 febbraio scorso. Una denuncia per ricettazione scattata per un autotrasportatore gelese di 64 anni. Il tir era pronto per partire. Il camionista risulta residente proprio in Germania. Dopo la perquisizione tra tanta merce è stata scoperta una motocross da competizione celata da un piumone da diversi scatoloni. Dal telaio si è risaliti al furto denunciato presso la stazione Carabinieri di Vittoria il 15 febbraio. Il sospetto è che ci sia un giro di moto rubate che finiscono all'estero. Cambiamo decisamente argomento. È previsto per venerdì prossimo alle 17 presso l'auditorium dell'Istituto Commerciale Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio di Bartolo un convegno promosso dalla diocesi di Piazza Armerina. Sentiamo. Costruiamo il futuro in una città che cambia dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale. È il titolo del convegno promosso dalla diocesi di Piazza Armerina tramite l'osservatorio pastorale di Gela fortemente voluto dal vescovo Rosario Gisana che si terrà venerdì 29 aprile alle 17 presso l'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. L'osservatorio pastorale cittadino composto da laici impegnati con una significativa esperienza di animazione sociale provenienti da tutte le parrocchie gelesi e presieduto dal vicario foraneo Michele Mattina ed è stato costituito in supporto al servizio del vescovo con la missione di sostenerlo nella sua azione pastorale. Si sta cercando di trovare nuove vie e quindi di poterle percorrere. Il convegno che abbiamo organizzato vuole essere un segno di speranza per questa nostra città. Sappiamo che c'è la crisi del lavoro e con i tanti disoccupati e aspettare che altri vengano a risolvere i problemi della nostra città forse significa stare a guardare in maniera passiva. E allora diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche e sicuramente ci saranno mille altre possibilità perché gradualmente, pian pianino, si possa uscire fuori da questo tunnel e garantire serenità e tranquillità non solo alle persone che hanno bisogno di lavorare ma anche alle loro famiglie. Il convegno non fa altro che richiamare quello che è l'accesso ai fonti europei e il microcredito e quindi con la possibilità che piccoli artigiani e persone che realmente vogliono fare possano, seguiti anche accompagnati dai tutor possano realizzare qualcosa di bello, di buono e di valido per loro e anche utile per la nostra città. Avevamo anche in cantiere un incontro con operai, sindacati e amministrazione poi esilitato tutto quanto perché l'amministrazione e i sindacati sono stati convocati per il giorno 19 aprile a Roma e quindi in futuro pensiamo di poter incontrare di nuovo gli operai per conoscere la situazione e anche poter dare oltre la nostra solidarietà il nostro sostegno perché anche per loro ci possa essere insomma un futuro. Gli ultimi episodi di cronaca che si sono registrati a Gela inducono ad una profonda riflessione bisogna ascoltare il grido di aiuto di chi soffre lo ha detto il Vescovo Monsignor Rosario Gisana Succellenza, nell'ultima ora a Gela si sono verificati due fatti preoccupanti due suicidi di altre tante ragazze le chiedo subito cosa sta accadendo secondo lei che chiave di lettura dà soprattutto la Chiesa a quello che, come sottolineavamo, sta avvenendo nell'ultima ora con le morti di due ragazze? Credo che siamo chiamati tutti in un certo senso ad essere sicuramente più testimoni del Vangelo probabilmente per certi versi giriamo attorno quello che dovrebbe essere invece una maggiore vicinanza nei confronti delle persone ma in modo particolare nei confronti dei giovani io vedo che da questo punto di vista almeno nella lettura pastorale che posso dare probabilmente dovremmo in qualche modo incrementare quella che noi chiamiamo la pastorale giovanile cioè una pastorale che sia più attenta ai giovani e alla loro crescita penso da questo punto di vista che i due aspetti cioè quello dei giovani e quello delle famiglie dovrebbero integrarsi o meglio ancora interagire e questo chi lo può fare soltanto la testimonianza cristiana in modo particolare coloro che sono chiamati ad un approccio educativo serio dovremmo stare in mezzo alla gente dovremmo davvero interagire in maniera come d'altra parte ce lo ripete in lungo e largo nello stesso Santo Padre cioè dovremmo veramente cercare di avviare una chiesa in uscita sostanzialmente non siamo stati bravi ad ascoltare le grido d'aiuto ma probabilmente sì poi è chiaro che dietro per esempio a dei suicidi ci sono sempre tante maglie che è difficile andarle bisogna anche dire una cosa del genere tante maglie che non facilmente si recuperano però sicuramente da parte nostra quello che possiamo fare è una maggiore ripeto prossimità nei confronti di questi nostri ragazzi a volte può succedere che magari dopo averli incontrati dopo aver fatto la nostra riflessione probabilmente il fattaccio può sempre succedere però io penso che purtroppo le cose succedono perché al momento sbagliato non c'è la persona giusta in pieno centro storico qualche ora dietro si è sparato tornando all'aspetto più cruento di quello che accade a Gela le chiedo anche in questo caso qual è l'impressione, la chiave di lettura la disamina che la chiesa fa su un avvenimento così tragico preoccupante preoccupante perché davvero tutto questo ci mette in seria riflessione siamo un po' tutti impegnati in questo momento per risollevare questa nostra città dalle marginalità soprattutto riguardante la disoccupazione quindi il problema del lavoro le famiglie che non stanno bene credo che ci siano un po' anche delle connessioni in tutto questo bisogna dire il nuovo atto aziendale dell'ASP di Caltanissetta penalizza fortemente i cittadini di Gela e dell'Interland lo ha denunciato il sindaco Domenico Messinese all'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi per il primo cittadino di Gela non risulta comprensibile infatti che vista l'individuazione di due poli oncologici all'interno dell'azienda sanitaria soltanto quello di Gela venga tenuta al palo nonostante la città del Golfo sia territorialmente compresa fra le aree dichiarate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ad alto rischio ambientale che la legislazione regionale riconosca questa priorità al punto da poter derogare agli ordinari principi di pianificazione sanitaria del territorio argomentare diversamente sul punto ha scritto il primo cittadino di Gela al componente della giunta Crocetta e qui varrebbe a sostenere che vista la discrezionalità dell'azione amministrativa in temi di organizzazione si consenta di utilizzare come una merce gli utenti residenti nelle aree ad alto rischio per aumentare il bacino d'utenza di strutture localizzate in siti normali altrimenti destinate ad essere sottoutilizzate Messinese ha chiesto di sapere a quali criteri ci si è ispirati per regolare le dotazioni ai servizi presenti nei due poli oncologici dell'ASP di Caltanissetta un'altra sollecitazione riguarda l'unità di terapia intensiva neonatale il sindaco di Gela ha infatti chiesto l'immediata attivazione dell'UTIN ancora sanità giovedì 28 aprile prossimo cioè domani nei locali della direzione sanitaria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela sarà presente la quinta commissione sanità dell'ARS presieduta da Pippo Di Giacomo per partecipare ad un incontro sulle problematiche che interessano l'offerta sanitaria nel comprensorio di Gela lo ha comunicato il deputato regionale del partito democratico il gelese Giuseppe Arancio alle 15 di domani la commissione si sposterà poi presse i locali della direzione generale dell'ASP di Caltanissetta cambiamo ancora argomento sarà firmato sabato pomeriggio alla chiesetta San Biagio il protocollo di intesa per la tutela delle coste e la proposta di un'area marina protetta ad apporre la firma saranno i sindaci le cui comunità si affacciano sul territorio del Golfo di Gela cioè Santa Croce Camerina Vittoria Cate Butera Ragusa Licata e naturalmente Gela l'evento rientra nella due giorni di convegne e dibattiti prevista a conclusione del progetto Life più Leopoldia sentiamo rigenerazione del paesaggio costiero e questo è il tema del convegno che si svolgerà a Gela nei prossimi 29 e 30 aprile alla chiesetta San Biagio a partire dalle 9 e 30 giudice la riserva del lago Biviere non soltanto verrà tutelata grazie al progetto Life più Leopoldia ma addirittura si pensa ad implementare altre piante e allargare questa zona Il Life che è uno strumento che si finanzia all'interno del Retrenato 2000 qui dentro i vincoli abbiamo potuto ovviamente portare avanti delle peculiarità cioè la Leopoldia tra l'altro molti Biviere lo associano agli uccelli alla migrazione però l'istituzione del Biviere oltre che per gli uccelli è per la Leopoldia con la differenza che quando perimetrarono il Biviere la Leopoldia era fuori non era dentro tranne un piccolo pezzettino che c'era per cui la fascia tunale fu tagliata fuori e adesso noi possiamo ricollocare queste aree e abbiamo principalmente un obiettivo quei 90 ettari di aree pubbliche che ci sono a sud della riserva che sono un potenziale enorme di riqualificazione Si può recuperare un'area che attualmente risulta fortemente degradata ma che di fatto ha delle grandissime potenzialità molte volte i problemi bisogna vederli con un'ottica giusta per vedere quali sono le risorse possibili e non quali possano essere i problemi è chiaro che ci vuole per ottenere dei risultati lavoro un lavoro che è iniziato già tre anni fa con questo intervento fatto dall'Università di Catania insieme al Biviere di Gela con i finanziamenti dell'Unione Europea tramite questo live ma che noi abbiamo intenzione di portare avanti per poter rendere quell'area veramente un'area di pregio e per rendere incontrato a Bulala una delle mete preferite a livello turistico Progettare il paesaggio tutelare la biodiversità e gestire lo spazio rurale sono le finalità del progetto Life più Leopoldia a cui prende parte tra gli altri l'Università degli Studi di Catania L'Università di Catania ci teneva particolarmente a portare a buon fine questo progetto Life Leopoldia perché le aree costiere soffrono in tutto il Mediterraneo di un'eccessiva pressione antropica però in quest'area della Sicilia sudorientale il problema è particolarmente accentuato queste aree sembrano veramente essere state abbandonate negli ultimi 50 anni sia per la presenza della raffineria che per l'insediarsi poi di attività agricole che hanno chiuso diciamo al resto della popolazione queste aree sia per in altre andando più verso il Ragusano per l'insediarsi anche di speculazione edilizia ecco quello che noi vogliamo lanciare come messaggio è proprio la necessità di cambiare approccio nella gestione delle aree costiere partendo da un rispetto delle risorse ambientali sarà celebrato sabato 30 aprile prossima alle 10 presso la sala convegni di Villa Peretti a Gela la 54esima charter del Lions Club di Gela preseduto dall'avvocato Antonio Gagliano nel corso del prestigioso evento è prevista la cerimonia del gemellaggio dei clubs di Gela termini merese host e termini in mera cerere nel pomeriggio gli ospiti saranno accompagnati per un tour nelle aree archeologiche più significative di Gela il convegno Maria Cristina di Savoia preseduto da Flora Montana Santa Maria organizza una conferenza su riflessioni sull'enciclica laudato sì di Papa Francesco l'evento è previsto per domani alle 18 al Teatro Eschilo di Gela relazionerà il vescovo della diocesi di Piazza Armerina Rosario Gisana interverranno Don Giuseppe Fauciana assistente ecclesiastico del convegno e il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Gela e Butera Agatha Guelli sarà presente la delegata regionale il vicepresidente nazionale Eleonora Chiavetta di Giovanni ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale si terrà giovedì 12 maggio prossimo alle 19 presse locali del museo archeologico di Gela la presentazione del romanzo di Vera Ambra Piume baciatemi la guancia ardente porteranno il saluto della città natale di Salvatore Damaggio le autorità cittadine e i presidenti delle associazioni Rotary Club FIDAPA Lions Club del Golfo Chivanis Proloco Gela Archeo Club lega navale Piume baciatemi la guancia ardente un romanzo storico e biografico liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore Damaggio tenente bersagliere mitragliere gelese protagonista indiscusso della grande guerra il libro ha ottenuto il logo ufficiale per il centenario della prima guerra mondiale concesso dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della presidenza del consiglio dei ministri e anche il patorcinio morale dell'associazione nazionale del Fante continua il progetto Erasmus alla scuola media Ettore Romagnoli di Gela in questi giorni i giovani studenti europei sono in visita a Gela siamo andati a conoscerli 19 studenti provenienti da Germania Lituania Portogallo Francia e Polonia hanno partecipato insieme ai loro compagni di seconda media alla scuola Ettore Romagnoli di Gela ad un nuovo importante appuntamento del progetto Erasmus Plus finanziato da fondi europei il tema di questo incontro è legato ai cambiamenti climatici e disastri ambientali la referente del progetto Tiziana Finocchiaro il progetto si intitola Climate Changes Versus Today's Lifestyles ed è un progetto che ha come obiettivo quello di far accrescere nei nostri studenti la consapevolezza che siamo vittime diciamo così di cambiamenti climatici e che in qualche modo l'uomo ha una grossa responsabilità in tutto questo è un progetto che stiamo svolgendo in maniera diciamo così esperienziale in cui i bambini sperimentano in prima persona come si misurano le condizioni atmosferiche acquisiscono quindi consapevolezza di quello che loro possono fare per migliorare il loro comportamento e quindi influire positivamente sull'ambiente la responsabile del progetto è un'insegnante tedesca che riferisce ai nostri microfoni la sua opinione su Erasmus una grandissima occasione offerta agli studenti europei di incontrarsi e confrontarsi discutere intorno a temi importanti e conoscere nuove culture appartenenti allo stesso continente Sebastian è in Sicilia per la prima volta afferma che Gera gli sia piaciuta moltissimo e ad averlo colpito particolarmente sono state le spiagge il sole e il mare che cosa sta imparando da questa esperienza vi siete molto preparati e come sta andando il confronto con i compagni sta andando molto bene sono molto simpatici e questa attività ci insegnano ad assumere le proprie responsabilità perché continuando così noi potremmo rischiare anche di rovinare questo ambiente che ci è stato affidato Preside, la scuola Ettore Romagnoli è una scuola che ha sempre una finestra aperta sull'Europa? Beh decisamente non vogliamo chiuderla in nessuna maniera quindi la nostra scuola passa dall'esperienza del programma europeo Erasmus Plus K1 che era dedicato alla mobilità del personale docente e nonna della scuola all'Erasmus Plus K2 che è destinato alla mobilità studentesca oggi Gela accoglie il secondo meeting il primo è stato in Polonia qualche mese fa a febbraio di tutti i partecipanti di questo progetto naturalmente abbiamo garantito le migliori condizioni per l'accoglienza per rendere bella agli occhi dei nostri ospiti Gela e la Sicilia e naturalmente anche per creare le migliori condizioni per il lavoro Grande partecipazione si è registrata al settimo convegno della Divina Misericordia che si è svolto domenica scorsa a Gela immagini e approfondimento in questo servizio vediamo Si è svolto a Gela domenica scorsa in un palazzetto gremito il settimo congresso regionale della Divina Misericordia che raduna annualmente i movimenti gruppi di preghiera e singoli fedeli della Sicilia e oltre che si ispirano al messaggio biblico della misericordia promosso da San Giovanni Paolo II e presente nel Magistero di Papa Francesco la giornata al Palacossiga di Gela è stata molto intensa si è registrata una grande affluenza di fedeli giunti da diverse regioni del sud Italia l'evento ha avuto il suo esordio con la lettura del messaggio del Cardinale Angelo Bagnasco Presidente della Conferenza Episcopale Italiana che ha esortato i partecipanti ad essere espressione di una chiesa in uscita capace di abitare il quotidiano delle persone grazie ad uno stile povero e solidale di ridare speranza per formare una chiesa pronta a fare della vita ordinaria il luogo dell'incontro e dell'esperienza della misericordia di Dio il convegno sul tema dell'anno giubilare dedicato appunto alla misericordia siate misericordiosi come il padre è stato patrocinato dal Pontificio Consiglio per i laici e dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione organizzato dal Comitato Mondiale dei Congressi della Misericordia dall'Accademia Internazionale della Misericordia dalla Diocesi di Piazza Armerina dal Movimento Fraternità Apostolica della Misericordia e dalla Piccola Casa della Misericordia che si occupa delle famiglie disagiate del territorio nisseno la celebrazione eucaristica è stata preseduta dal Cardinale Stanislao Rilko presidente del Pontificio Consiglio per i laici stretto collaboratore di Papa Francesco nella conduzione di uno dei più importanti di Casteri Vaticani il Cardinale Polacco ha portato i saluti personali di Papa Francesco che ha assicurato la sua benedizione incoraggiando i fedeli a proseguire con entusiasmo sulla via della misericordia tracciata a Gela attraverso la fede e la carità il Vescovo di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana ha tenuto una relazione sulle opere di misericordia in conclusione del nostro telegiornale c'è la pagina dello spettacolo è un paese quasi perfetto con Fabio Volo il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola 17.30 19.30 21.30 sabato 30 aprile alle 21 sarà replicato lo spettacolo attenti a quei due con Guglielmo Grech Emanuele Giammus e Lori Ardore con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la gentile attenzione per aver seguito e scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci Grazie a tutti